Ben ritrovati, siamo qui sempre all'Asset Management Forum con uno dei protagonisti della seconda tavola rotonda. Abbiamo con noi Marco Romani, Head of Investment Advisory di CNP Partners. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno a tutti. Tra l'altro un volto noto delle fonti TV perché è stato uno dei protagonisti anche delle puntate di Consapevolmente. Ecco, proprio con Consapevolmente abbiamo cercato di fare un percorso all'interno della consapevolezza finanziaria, dando anche dei messaggi molto importanti ai nostri telespettatori. Spesso abbiamo parlato di quanto sia importante introdurre anche in portafoglio delle protezioni assicurative. Sì, noi intendiamo la ricchezza finanziaria non solo come ricchezza definita dal portafoglio, dai saldi finanziari della clientela. Le ricchezze sono diverse. Pensiamo ad esempio al reddito di un giovane lavoratore o comunque di una persona che entra nel mondo di lavoro. Quanto sia importante avere la certezza di un reddito costante che magari progressivamente cresce nel corso della vita e quanto è importante quindi proteggersi da quelli che sono i rischi eventuali di poter perdere il posto di lavoro, di avere degli incidenti nel corso del percorso di lavoro. Quindi diciamo trovarsi in una situazione in cui si viene a mancare quella che è una delle fonti principali di mantenimento del livello e della qualità di vita. Quindi a fianco dell'approccio classico di allocazione delle risorse finanziarie, riteniamo importante trovare soluzioni che proteggano quelle che sono le fonti di reddito delle persone attraverso appunto il cosiddetto gestione del rischio di mortalità. Quindi affiancare al lato dell'attivo di bilancio di una famiglia anche protezione sul lato del passivo riteniamo sia un approccio un pochino più olistico rispetto ai tradizionali approcci di finanza dove ci si concentra più sul rapporto performance-rischio rispetto a quelle che sono poi le esigenze di vita delle persone. Un'altra tipologia di ricchezza ad esempio è la liquidità. La liquidità sappiamo dai rapporti di Banca d'Italia così come negli ultimi rapporti di Censys IPB quanto la percentuale di liquidità oggi è cresciuta all'interno dei portafogli. che è un po' un controsenso visto che proprio nel contesto storico di mercati finanziari in cui i tassi sono negativi, l'esempio della Germania che ha applicato tassi negativi sui conti correnti è un esempio emblematico, ci si domanda perché i risparmiatori italiani mantengano così elevati un'elevata percentuale di liquidità nel portafoglio. Una delle risposte sicuramente è per far fronte a eventuali spese in attese e queste eventuali spese in attese possono essere malattie, incidenti, operazioni che difficilmente possono essere coperte dal sistema sanitario nazionale. Anche qua utilizzare parte di questa liquidità per acquistare attraverso premi di importo ridotto polizze assicurative, strumenti assicurativi di insurance che proteggano da eventuali incidenti nel corso del ciclo di vita naturale di una famiglia è una componente che riteniamo essere importante all'interno di una pianificazione corretta della ricchezza familiare. Ce ne sono altre, però non vogliamo dilungarci troppo. Ecco, di solito nella fund selection si utilizzava sempre come criterio la massimizzazione del rendimento e la minimizzazione del rischio. Sono ancora questi i due indicatori fondamentali? Il rapporto rischio-rendimento è chiaramente la base accademica della finanza. All'interno ci sono diverse nuove novità che stanno approcciando il mercato. Gli ESG ad esempio è un tema che anche qui oggi affrontiamo e sicuramente sono dei temi che vanno a implementare il classico approccio di gestione dei portafogli. E puntando soprattutto sulla minimizzazione appunto del rischio piuttosto che sulla performance. all'interno diciamo della poi fund selection in quanto tale negli ultimi anni c'è stata una proliferazione enorme dei prodotti a disposizione dei clienti. Teniamo in considerazione che oggi ci sono più fondi comuni di investimento a disposizione che aziende quotate in borsa. diventa cruciale di conseguenza cercare di ottimizzare il tempo cercando di, in questo panorama, in questo insieme di offerta sempre maggiore mettere a disposizione attraverso un'opportuna attività di selezione quelle che effettivamente riescono a creare alfa per il cliente. noi cerchiamo di implementare modelli quantitativi a modelli qualitativi analizzando le SGR che ci vengono a trovare cercando appunto di liberare tempo a coloro che poi hanno il maggiore assorbimento di tempo di lavoro nei confronti del cliente offrire diciamo quella che è il meglio che offre oggi il mercato. Bene, grazie a Marco Romani, poi l'aspettiamo nella tavola rotonda. Grazie. Restituisco la linea in studio, poi ci rivedremo per intervistare altri ospiti di questa giornata. Grazie. 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 Grazie.